Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di questa azienda siciliana che si trova a Gela Innanzitutto io vorrei ringraziare Cristian e Serena, veramente cordialissimi Mi hanno aiutato comunque nella scelta del prodotto, lo hanno anche personalizzato Adesso vi parlerò di questa azienda che appunto dal 2018 producono portafogli con il portacarte E viene commercializzata in tutto il mondo Allora, adesso vi faccio vedere che cosa mi è arrivato Allora, eccola qua, arriva in questa scatola di metallo Veramente fantastica Qui possiamo aprire, vediamo qui Slim Italia Design, che è appunto il loro logo E in particolare adesso vi farò vedere questo bellissimo portacarte Aspetta che ci lo metto fuori Allora, guardate qui com'è fantastico Perché appunto c'è già le mie iniziali SG E poi andandola ad aprire vi è questa cassa in alluminio L'R-Feed Blocking Che è la protezione anticlonazione Quindi protegge le carte da furti elettronici Ma anche appunto da clonazioni Ed è fantastica perché comunque nessuno ce l'ha E poi la particolarità che dentro è di pelle Quindi qui, andando a togliere questo di qua Possiamo vedere che qui possiamo mettere I soldi Ed essendo in pelle, con il tempo non va a rovinarsi Quindi fantastico E qui invece andiamo a mettere le carte Che adesso vi faccio vedere come funziona Allora ragazzi, guardate com'è fantastico Con le mie iniziali è personalizzabile anche il bottoncino Ho scelto questa colorazione azzurrina E qui possiamo vedere che all'interno l'ho fatto Cioè ho scelto il colore fucsia Qui come potete vedere è il fermo a banconote in pelle E qui la particolarità che comunque l'ho voluto personalizzato Anche all'interno Che si può personalizzare con il nome Io l'ho voluto comunque con il mio logo Malimpasto 2.0 Davvero bellissimo E qui adesso vi faccio vedere Ho messo le carte in questa cassa in alluminio Come potete vedere E la particolarità è appunto Che non escono le carte Perché c'è questo sistema qui sotto Dove escono le carte E quindi possiamo scegliere quella che vogliamo Davvero fantastico Perché qui possiamo prendere tutte le carte che vogliamo Magari Quindi non saranno più sparse nel portafoglio Ma bensì li troviamo tutte qua Belle ordinate E appunto non cadono neanche volendo E mentre con questo sistema escono Davvero bellissimo E poi un'altra cosa Qui abbiamo anche Io ho scelto un modello con Con la zip Perché abbiamo tre modelle Abbiamo il modello senza zip Con la zip Anche con la air tag E qui quindi mettendo le monetine In questa zip Potete vedere che qui richiama l'aletta Con il colore all'interno che ho scelto Quindi davvero fantastico Anche per portare le spiagge È comodissimo E comunque non è troppo ingombrante E portate soltanto il necessario Allora ragazzi Io vi dico che questo portacarte Lo potete trovare Sia sul loro sito SlimItalia.com Ma anche Lo potete trovare Sia su Amazon Che su Ebay Che comunque sono sempre loro Per quanto riguarda Appunto le colorazioni Ce ne sono tantissime Potete scegliere Dall'azzurro Blu Verde Giallo Insomma Ce ne sono tantissime Potete scegliere Un'unica colorazione Sia all'esterno Che all'interno Oppure comunque Farlo bicolore Loro sono gentilissimi Comunque Ti aiutano In tutto e per tutto Se volete qualcosa Particolare Comunque Messo Tengono anche Al packaging Perché appunto Può essere Comunque Fatto Anche come Confezione Regalo Ringrazio appunto Serena e Christian Per questo Meraviglioso Portacarte Che veramente Ragazzi Ve lo consiglio Andate a dare Un'occhiata al sito Loro Gentilissimi E niente Ringrazio ancora Adesso Vi lascio anche Il codice sconto Qui sotto Che comunque Potrete avere Pure uno scondicino La cosa più importante Eppure Che comunque Avrete le spedizioni Gratissi Quindi pagherete Solamente il prodotto Grazie ancora Slim Italia Un'occhiata al sito Un'occhiata al sito Un'occhiata al sito